e ben ritrovati ragazzi ancora una volta nel canale del vostro amico sette te non c'è sette non c'è sette te coppe e daie un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo se non si è iscritto al canale vi invito a iscrivervi al canale al canale al canale pollicione in alto e partiamo subito oggi andiamo a vedere tre notizie fondamentali dopo roma interstate sintonizzate allora ragazzi partiamo con la prima notizia è l'addio alla champions per quanto riguarda il campionato via camp via campionato allora possiamo dire addio alla champions abbiamo perso tutti gli scontri diretti quasi tutti quasi tutti perché con la juve non c'è ma la juve lo sappiamo toglieranno i punti con il milan 2 a 2 all'andata 1 a 1 al ritorno quindi conta la differenza reti ma con atalanta inter lazio napoli e chi più ne ha più ne metta li abbiamo persi tutti quanti ragazzi 1 a 0 con l'inter all'andata e 2 a 0 al ritorno se la matematica non è un'opinione abbiamo lo scontro diretto perso quindi anche a pari punti non possiamo competere con queste squadre per quanto riguarda la classifica l'unica cosa adesso è di andare a tifare stasera in juve bergamo la juventus perché se bergamo ho detto perché se l'atalanta dovesse vincere ragazzi si metterebbe veramente veramente male anche vista la situazione della fiorentina che potrebbe arrivare in finale di conference league e addirittura è in finale contro l'inter non credo che la vince ma non è detto quindi potrebbe strappare ancora un posto in europa league quindi sono a rischio anche le coppe e che cosa è rimasto adesso ragazzi è rimasto solamente l'europa league e il secondo fatto importante dopo roma inter è l'europa league dobbiamo concentrarci adesso sull'europa league ormai le somme si tireranno a fine anno dopo l'europa league dico che non è presto per parlare perché dobbiamo fare anche un piccolo bilancio del campionato che è andato malissimo quest'anno ve l'ho detto gli scontri diretti ormai sono andati sono assolutamente andati ragazzi siamo andati veramente veramente male in campionato ma resta l'europa league è l'unica ancora di salvezza murino sta raccimolando le molliche sta cercando di ripianare tutto il gruppo speriamo che almeno gioverdi recupereremo qualcuno di questo sono quasi sicuro vedremo smalling molti dicono che è pronto per il ritorno però so che stanno facendo di tutto per recuperarlo almeno all'andata perché senza smalling la baracca dietro crolla di bala gioca con una gamba l'ha detto anche il mister wijnaldum vediamo se lo recuperiamo matic è imprescindibile in per quanto riguarda il centrocampo ma la partita contro il bayern monaco è la partita più importante della stagione se non che delle ultime stagioni perché quella segnerà il divario tra quello che può succedere il prossimo anno e quello che sta succedendo adesso ragazzi con tutta questa situazione che si sta verificando è quello che dobbiamo andare a vedere anche l'intervista di murino non lascia per niente dormire sonni tranquilli la situazione non è bella anzi altrettanto che stiamo facendo quello che possiamo fare visto gli soldi che abbiamo speso sul mercato che sono ricordo 8 milioni e 200 mila euro quest'anno e che è veramente poco ragazzi a par di cartellini parlo di cartellini se poi andiamo a parlare di parametri zero lì i soldi sono spesi tra commissioni e ingaggi e cose varie questo questo è però la partita contro il bayern percusen segnerà è una diga ragazzi è una diga che segnerà proprio dall'andazzo della stagione e da lì poi decideremo e tireremo le somme vedremo quello che succederà però contro il bayern percusen serve passare assolutamente per arrivare in finale di europa league quindi aspettiamo giovedì poi c'è il bologna parliamo partita dopo partita una gara in mezzo all'andata e al ritorno contro la squadra tedesca il bayern percusen è battibile ragazzi ve lo dico in difesa ballano un po soffrono molto i contropiedi ma in attacco sono forti in attacco sono forti e a noi ultimamente la difesa sta facendo letteralmente schifo un altro un'altra notizia che voglio andarvi a dare è gli errori individuali sono gli errori individuali ogni partita ci sono errori individuali ieri abbiamo visto un altro errore di bagnance l'ennesimo di quest'anno molti dicono che bisogna darlo bisogna metterlo sul mercato per adesso i bagnance non ha ricevuto offerte è sul mercato ma fino a quando non riceve offerte ragazzi non possiamo dire se bagnance parte o resta perché l'abbiamo visto anche con carsdorp durante questa stagione qua a gennaio doveva partire poi alla fine è rimasto perché non ha ricevuto nessuna offerta zero offerte per carsdorp la situazione dei tersini è veramente grave molti se ne sono accorti dopo io che ve lo sto dicendo da numerosi numerosi video farei anche la lato di spinazzola cambierai e porterei qualcuno di nuovo dall'altra parte celic carsdorp e zaleschi non fanno dormire tranquilli ragazzi abbiamo visto quello che è manca la qualità manca la velocità per il cambio passo dei tersini le frecce che murino ha richiesto non sono arrivate quindi dobbiamo solamente aspettare l'ultima notizia importante è l'intervista di murino non so se l'avete ascoltata ovvero la conferenza stampa io faccio riferimento alla conferenza stampa ragazzi perché dopo nel post partita parlato con differenti organi di stampa io faccio riferimento alla conferenza stampa di murino parla del proprio futuro ecco murino parla del proprio futuro dopo la sconfitta con l'inter ha detto amo l'italia amo l'italia amo l'italia e adoro lavorare in italia e il fatto è che purtroppo la federazione italiana degli albitri non ama te giosè murino mi dispiace perché ti sei messo tutti gli arbitri contro sei l'unico a lottare da quel punto di vista perché la società l'ha detto pure ieri non parla e adesso basta parlare degli arbitri e in cui tocca che la società intervieni ma io non dico i fredkin che devono intervenire perché tanto la politica societaria la sappiamo loro non parlano non si fanno ascoltare ma quelli che lavorano per i fredkin a parte murino pinto parla parla degli arbitri difende la società non mi sembra l'inaso luca arrivato adesso e non credo che parla degli arbitri ragazzi perché questi non hanno diciamo le palle quando succede all'inter o alla juventus cose del genere c'era agnelli che andava ai microfoni e parlava di queste cose c'è marotta che difende la società c'è paolo maltini che difende il milan se dovessero succedere scandali arbitrali o qualcosa che alla roma non piace intervengono questi i si o i dirigenti e tutto perché ovviamente l'allenatore è quello che si sta prendendo più le dame in faccia vista la situazione quella che è murino parla e viene attaccato dal signor ulivieri che ha avuto moltissime squalifiche per quanto riguarda il calcio scommesse viene attaccato dagli altri giornalisti viene attaccato dall'opinione pubblica dagli opinionisti e anche e anche dall'altra tifoseria poi ha continuato nella conferenza stampa ha detto questi due anni non sono stati gioiosi come quelli dell'inter ovviamente ha fatto riferimento all'inter io qui posso anche giustificarlo però parla sempre di inter 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 perché ovviamente la squadra che ha allenato precedentemente lui aveva questo ricordo con l'inter perché con l'inter ha vinto tutto e ha detto che non sono stati gioiosi come quelli dell'inter solo che l'inter l'aveva tre squadre ne ha due adesso l'ha ribadito anche ieri quando manca gente come Dzeko e Lukaku ecco a Lautaro Martinez in panchina due squadre ragazzi la Roma non ce le ha queste due squadre è ovviamente un mister che pretendo un mister pretenzioso che vuole giocatori queste cose lui ci fa assolutamente molta molta attenzione poi ha continuato ma la Roma è semplicemente straordinaria dal punto di vista umano ha parlato di punto di vista umano non ha detto è semplicemente straordinaria dal punto di vista sportivo e queste parole a me mi fanno riflettere ragazzi perché ha detto dal punto di vista umano cosa vuol dire vuol dire i tifosi vuol dire l'ambiente dei tifosi quello che si crea l'atmosfera l'empatia di quello che si propaga dentro questa città quindi la gente ama Murino i tifosi vogliono che Murino resta ieri hanno intonato i cori per far sì che magari la dirigenza si svegli e farà subito questo incontro che non farà mai io ve l'ho detto non lo farà adesso perché prima deve finire il campionato deve finire l'Europa League e poi magari ci sarà questo incontro ma quando ci sarà questo incontro a giugno probabile che sia troppo tardi in caso che Murino se ne dovesse andare sarà veramente un disastro ragazzi non dal punto di vista tecnico perché magari un altro allenatore lo può trovare ma dal punto di vista degli sponsor dal punto di vista di quello che ha creato e di quello che potrebbe arrivare l'Adidas e la Toyota e tutti gli sponsorship che la Roma sta cercando di creare collegamenti anche con la UEFA potrebbero crollare io non la vedo una situazione buona questa devo dirvi la verità però Murino per adesso vi ripeto non è stato contattato da nessuna squadra europea per ora e la Roma non è in contatto con nessuna un altro allenatore tanto meno Ancelotti i Nagelsmann questi qua perché hanno già dei contratti preaccordi con altre squadre Nagelsmann per quanto riguarda il Tottenham Ancelotti ieri ha vinto la Coppa del Rey e quindi penso che rimanare al Madrid tra l'altro Perez ne ha pure parlato avete visto basta vincere un trofeo arriva Perez parla e rimette le cose in ordine e per quanto riguarda invece il Perez vi avevo già comunicato che stanno addirittura ad arrivo per pocettino vedremo quello che succederà con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like commentino sotto iscrizione al canale fatemi sapere cosa ne pensate lascio a voi commenti ragazzi i commenti sono aperti sfogate vedetemi quello che volete ragazzi sotto siete liberi di scrivere quello che volete e dai sempre forza Roma non dimenticate di attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti ciao ragazzi e buona giornata ciao